i danni spirituali del lockdown salve a tutti sono alex piverada operatore logistico ed esoterico oggi vorrei parlarvi di quelli che io ho identificato come danni spirituali da lockdown li ho identificati sulla base dell'auto osservazione e dell'osservazione dei miei clienti sappiamo tutti cos'è il lockdown lo abbiamo vissuto lo stiamo vivendo nel momento in cui esce questo video soprattutto per coloro che risiedono nelle cosiddette zone rosse soprattutto quindi per coloro come me che vivono e lavorano in lombardia sul pianeti etimologico lockdown a parole inglese lock di solito significa più comunemente chiusura lucchetto down giù quindi potete immaginare cosa significa ok è un termine prestato che ci è stato prestato dal linguaggio anglosassone e veniva originariamente utilizzato nelle prigioni ok o comunque nei nelle condizioni di chiusura coatta quindi potremmo identificarla come confinamento confinamento la cosa grave immeritato preventivo è molto triste pensare che a un termine prestato dalla prigione quindi un termine normalmente utilizzato per delinquenti per truffatori per assassini per persone che hanno una responsabilità è molto triste pensare che a prescindere dal fatto che poi il sistema carcerario la pena carceraria sia utile oppure no per correggere i comportamenti di un delinquente è molto triste pensare che questo termine venga utilizzato per persone che non hanno fatto nulla ma che sono semplicemente dei potenziali untori trasmettitori di virus portatori sani o non sani di un virus come se queste persone noi avessimo una colpa di base bene a prescindere dal fatto che lock down sia un mezzo giusto o non giusto e quindi il giusto e sbagliato è un concetto soggettivo a prescindere dal fatto che lock down fosse ossia inevitabile per quanto la svezia non l'abbia affatto dottato eppure non sono tutti morti per quanto non sapremo mai se ci fossero alternative per il semplice fatto che non si vive nei sì ma si vive in quello che è stato per quanto il lock down sia una prigionia parziale perché comunque siamo chiusi nelle nostre abitazioni che non è come un carcere anche se certi monolocali potrebbero sembrarlo anche se abbiamo a disposizione internet televisione cellulare quando vogliamo se possiamo fare la spesa non ci manca il cibo sempre che ne abbiamo il denaro il fatto io che io ad esempio se oggi volessi da solo prendere la mia automobile e fare 100 chilometri per andare sempre da solo in montagna senza incontrare alcuna persona e quindi senza poter contaminare nessuno il fatto che io non lo possa fare non ha nulla a che fare con la trasmissione e la pericolosità di un virus ma a che fare solo esclusivamente con un'inibizione di un inviolabile e sacrosanto diritto all'essere felice e sereno e stare in mezzo alla natura che fra l'altro stimolerebbe il mio sistema immunitario e aiuterebbe a essere più resistente alla malattia ma capisco che non si possa agire con le gole così selettive da dire tu puoi muoverti da solo dove vuoi ma se ti muovi incroci qualcuno come fai come serve tutto complesso quindi è più semplice delle regole restringenti ferre non ti muovi e facciamo prima se non ti muovi il rischio che contamini se contaminato è basso nulla o no perché nulla no è più basso quindi capisco la difficoltà di politici e forse l'ordine di gestire 60 milioni di persone con delle regole adattabili a tutti ma bisogna capire il diritto inevitabile e inalienabile della libertà personale sia di lavorare sia di avere una vita normale soprattutto per un soggetto che non ha mai manifestato alcun sintomo alcun problema che non ha causato problemi e non è detto che ne causi quindi giusto o sbagliato che sia il lockdown come potete capire dai miei parole non sono propriamente d'accordo ma non ho le competenze per dire ci sarebbero state soluzioni differenti migliori giusto o sbagliato che sia il lockdown ha creato e sta creando dei danni sia economici sia psicologici che spirituali di quelli economici ci penserà la politica e l'economia a fare i conti di quelli psicologici ci pensano già gli psicologi e ci pensano anche il ministero della salute e infatti cito documento che può essere trovato sul sito del ministero della salute quindi non me lo sono inventato conseguenze psicologiche l'isolamento a casa durante l'emergenza da nuovo coronavirus ha causato l'insorgenza di problematiche comportamentali sintomi di regressione nel 65 per cento di bambini di età minore ai sei anni e nel 71 per cento di quelli di età maggiore di sei anni fino a 18 è quanto emerge da un'indagine sull'impatto psicologico e comportamentale del lockdown nei bambini e negli adolescenti in italia condotta dall'ospedale pediatrico gaslini di genova tra i disturbi più frequentemente evidenziati vi sono l'aumento dell'irritabilità disturbi del sonno e disturbi d'ansia bene questo riguarda i bambini gli adulti non sono esenti magari prossimamente vi citerò anche i danni psicologici ma ripeto i danni psicologici riguardano e vengono trattati da psicologi psicoterapeuti ordine dei medici e via dicendo ma i danni spirituali è difficile parlare di un territorio che non meno è riconosciuto dalla maggior parte delle persone perché per molte persone essere atei o agnostici è un diritto per la scienza la spiritualità non esiste o perlomeno non è il suo territorio non esiste un ordine degli spiritualisti degli sciamani dei operatori spirituali esistono delle associazioni di categoria che hanno un peso e un riconoscimento molto più vasto del potere degli ordini dei medici quindi finché l'essere umano sempre che accadrà e probabilmente non accadrà mai non riconoscerà che noi siamo anche esseri spirituali dentro un corpo di carne e che non siamo solo corpi di carne con un complesso psicologico e fisico l'igiene spirituale l'attenzione spirituale è lasciata noi individui singoli e quindi ognuno deve bagdare alla propria salute spirituale purtroppo vediamo ora quali sono questi dieci danni che ho identificato e se il video vi piace se siete d'accordo se comunque volete commentare o se non siete d'accordo volete commentare educatamente mi raccomando educatamente potete farlo sia sulla pagina facebook alex peverada che quella lux nova sia sul canale youtube lux nova il primo danno molto compatibile le tecniche teorie sciamaniche un po meno ad altre teorie spirituali che non considerano l'anima come qualcosa di danneggiabile è la perdita dell'anima o di un frammento dell'anima il lockdown causa depressione va bene la tratti dal punto di vista psicologico ma dal punto di vista energetico guardate il mio video sul recupero dell'anima la frammentazione perché a conti fatti il lockdown può essere un trauma molto forte per l'individuo e quindi essere potenzialmente causa di defraumentazione dell'anima il secondo problema connesso a la perdita di frammenti d'anima è la possibilità che ci siano intrusioni e non intrusioni come qualcuno che entra in abitazione intrusioni spirituali perché perché abbastandosi le difese immunitarie abbastandosi le difese spirituali trovandosi l'individuo isolato separato nulla facente quindi chiuso in se stesso e in uno stato spirituale di debolezza potrebbe succedere che le cosiddette intrusioni quindi i pensieri negativi che circolano attraverso i mass media che circolano attraverso la paura collettiva che circolano attraverso i conflitti che abbiamo con altre persone sui social al telefono o in altra maniera può essere che aumenti la possibilità di farsi carico di intrusioni sciamaniche intrusioni spirituali anche qui guardate il mio video sulla rimozione delle intrusioni o estrazione sciamanica vi spiegherà meglio che cosa intendo il terzo tipo di danno che connesso ai due precedenti è l'abbassamento delle difese psichiche e spirituali se non ho supporto da parte di amici colleghi in campo spirituale quindi se non incontro cerchi sciamanici se non faccio ritiri di meditazione se non faccio incontri di yoga di persona se non faccio sessioni di persona con il mio facilitatore di facilitatrice di riferimento se non vado in chiesa pregare e via dicendo automaticamente la mia ora il mio campo energetico la mia difesa psico spirituali si abbastano per forza e quindi sono ancora più debole spiritualmente se guardate il mio video su le ragioni le cause spirituali del virus della quarantena e vi dicendo un video che avevo pubblicato mesi fa sapete che secondo me ci sono dietro i demoni i demoni separano le persone e non è un caso che loro non vogliono che ci amiamo che noi ci abbracciamo che noi ci incontriamo che i bimbi si riuniscano a giocare liberamente che sorridano che le vibrazioni si inalzi e quindi tutto è collegato poi danni all'aura e i chakra se il mio chakra quarto chakra non ha possibilità di dare amore alla mia fidanzata al mio fidanzato perché non posso incontrarla perché dare amore a distanza non è come dare amore di persona se il mio primo chakra è sofferente perché mi manca il terreno sotto i piedi perché sono in cassa integrazione oppure la mia azienda fallita oppure semplicemente ho altri tipi di problemi connessi a denaro lavoro casa e via dicendo automaticamente si indebolisce il chakra se non ho la possibilità di fare sesto sì perché non tutti sono sposati il mio secondo chakra non ha possibilità di esprimersi e quindi soffre soffre l'individuo se io sono limitato in casa non posso andare a fare una passeggiata nei boschi non posso prendere l'auto andare a trovare un lago una cascata non posso andare a comprare un oggetto che per me potrebbe non essere indispensabile ma di piacere io sono limitato nell'espressione di ciò che sono e ciò che faccio sono limitato all'espressione del mio potere personale quindi il mio terzo chakra soffre e così via anche il quinto chakra la comunicazione che è inibita e limitata il mio sesto chakra la visione non riesco a avere una visione sul futuro non riesco a fare progetti non riesco a avere intuizioni sul futuro perché il mio futuro non dipende più da me dipende da un dpcm dipende da come andrà un virus e stessa cosa il mio settimo chakra che non comunica bene più con dio perché o con il sé perché perché tutti gli altri chakra sono più deboli e quindi se io sono più debole spiritualmente è debole anche il mio connesso la mia connessione col divino e quindi la mia aura che interagisce ed è frutto del lavoro dei chakra sarà più debole e ritorniamo al discorso il frammentazione dell'anima e delle intrusioni poi diminuisce il potere personale ne ho già accennato parla del terzo chakra quindi che cosa succede che non potendo esprimermi nel mondo come vorrei pian piano utilizzo meno il terzo chakra utilizzo meno il mio potere personale e creo meno cambio meno la realtà circostante mi sento più inutile e diventa una spirale discendente di perdita di potere del personale la sciamana vera stazzina la sciamana siberiana con cui mi è capitato ho avuto la fortuna di poter interagire durante un ritiro a vetan in aosta racconta che il suo maestro di sciamanesimo durante un periodo particolarmente repressivo in russia e in mongolia in cina tutte quelle zone lì ci sono stati dei periodi in cui i governi non erano d'accordo con la pratica dello sciamanesimo lui il maestro di vera fu costretto a diventare una guardia forestale per poter stare in contatto coi boschi con gli spiriti e quindi poi purtroppo smettere di praticare ufficialmente sciamanesimo questo toglie molto potere sciamanico a uno sciamano uno sciamano un ribelle e un connesso con la natura è un individuo fuori dalle righe e soffre particolarmente per la perdita del potere personale con rischio anche di ammalarsi spiritualmente e forse fisicamente infine l'ultimo e più grande rischio è l'abbandono del percorso spirituale lo hanno osservato molti colleghi l'ho osservato io con alcuni allievi e lieve c'è il rischio che la persona trovandovi soverchiata da questo lockdown da questa situazione di impotenza non potendo più incontrare gli amici colleghi cari coloro con quali persegue una via spirituale può essere che l'individuo abbandonato se stessa decide di lasciare andare il proprio percorso spirituale tende allontanarsi procrastina infine vive solo della materialità pensa solo esclusivamente alla materia questo è molto grave perché la spiritualità un percorso singolare ma anche collettivo siamo tutti dentro un'onda karmica un'onda di crescita un'onda spirituale e bisogna rimanere connessi bene se questo video ti è piaciuto se condividi in parte totalmente contenuti diffondi questo video sui social network parlane con altre persone iscriviti al canale youtube e segui la pagina facebook lux nova e alex preverano mi raccomando non perderti il prossimo video perché dopo aver parlato dei danni del lockdown parlerò di ciò che è possibile fare spiritualmente all'interno del lockdown per cercare di contenere questi danni ti onoro e ti ringrazio per il tuo tempo e il tuo ascolto non ti auguro non ti auguro buon lockdown perché c'è poco di buono da augurare grazie grazie a tutti